ci prepariamo al back to school vero come iniziamo col back to school finendo i compiti delle vacanze stai facendo che materia ciao a tutti amiche amici bentornati e bentrovati nel cane di mamma formica e oggi video back to school perché sapevamo che la scuola doveva cominciare il 16 e invece uscita la circolare comincerà lunedì 13 quindi da preparare in meno di una settimana quindi nicolò sta finendo i compiti delle vacanze e poi andremo a farvi vedere quello che abbiamo acquistato per il nostro rientro a scuola vi faccio vedere cosa sto facendo ecco qua qua ci sono tutti i miei compiti e sicuro i compiti che sto facendo qua ci sono tutte le cose e poi l'ho già fatto mi manca solamente da fare questo e stiamo preparando per il back to school come vi dicevamo ieri cosa è pronto per il ritorno a scuola si è anche a pop it ok mostriamo cosa abbiamo preparato per la scuola che classe frequenterai quest'anno ecco il pazzo che è passato per la strada quest'anno nicolò farà la terza b allora prima facciamo vedere quello che abbiamo comprato e poi facciamo vedere quello che ricicliamo dagli anni precedenti perché inutile comprare cose nuove quando poi ce ne abbiamo fa molto ridere l'ombra del pop it ok prepara dai fai vedere cosa abbiamo comprato per la scuola cosa abbiamo riciclato cominciamo dal riciclo questo abbiamo riciclato l'astuccio degli oreo che ci hanno regalato l'anno scorso con l'acquisto dei biscotti giusto qui metteremo le le penne orbici la colla e altro ok poi avanti vediamo ancora cosa c'è passa dall'altra parte perché se non ti riesce a prenderli poi sempre dall'anno scorso cosa abbiamo avevamo comprato un doppio diario quindi riutilizzeremo il diario che avevi già che di spiderman fa vedere un po all'interno dammi lo faccio vedere all'interno questo l'avevo comprato su amazon in prima elementare poi l'hanno utilizzato lui voleva il diario di me conto 3 l'anno scorso quindi gli ho preso quello questo essendo nuovo e non essendoci delle date già prestabilite lo abbiamo utilizzato per quest'anno andremo a mettere invece di prima terza poi andiamo avanti cosa altro c'è dell'anno scorso l'astuccio di cars di cars che mi piace tanto fanno vedere che vuoto perché i colori quelli vecchi li abbiamo buttati e lo andremo a riempire con quel con cosa nicolò con nuovi colori fai vedere però me li facciamo mostrare appena ci sono le cose comprate vedi che te ce li abbiamo ci sono i colori comprati qua sono ah ok quelle da riciclare poi cosa l'abbiamo utilizzato abbiamo anche la mitica si quella che vi abbiamo mostrato nel video quest'inverno perché un tubetto di questi grossi lo ha utilizzato quasi per tutto l'anno scolastico da quando è arrivata e ancora ce n'è lì dentro quindi andiamo utilizzare gli altri tubetti che c'erano rimasti andate a vedere il video di mitama all'info poi cosa c'è ancora poi abbiamo le gomme anche queste le avevamo comprate l'anno scorso quindi le riutilizzeremo perché sono nuove poi mi pare cielo zero ma lo faccio vedere alla fine perché di sotto andiamo a vedere le cose nuove che abbiamo comprato allora i pennarelli a spirito di giotto ovviamente giotto il nostro amico sono ventiquattro colori ma nell'astruzione entrano venti quindi andremo a vedere quali non mettiamo poi andremo ad etichettarli più tardi mi faremo l'etichetteremo con le etichette di stickers che ci hanno regalato un buono da 10 euro e quindi abbiamo comprato le etichette io dico grazie a quello poi poi abbiamo i colori di stablo che sono i colori a legno poi abbiamo comprato tre pacchi di quadernoni due pacchi a quadri due pacchi a quadri e una riga e abbiamo speso la bellezza di 2,95 euro al pacco quindi un quadernone è costato 29 centesimi un affare va in poche parole poi cos'altro abbiamo comprato dai questi sono quelli a quadri ogni tanto passa qualcuno nella strada aspetta un attimo gli do una mano e questi sono quelle a righe sono tutti uguali cambia soltanto la il colore poi abbiamo comprato le matite anche queste comprate pochissimo qui in un negozio per gli articoli per la casa poi abbiamo sempre quel negozio abbiamo comprato le penne che erano a pacchetti da tre quelle la gialle quelle della power mate e sono costate tre penne un euro e 99 quando io ne dico le lì con le dico la la cartoneria le compro un euro e cinquanta ciascuno e quelle singole quella arancione quella verde dammi che li faccio vedere quelle arancione questa verde e quella arancione sono costate un euro ciascuna poi cos'altro dobbiamo mostrare nicolò a questo qui l'abbiamo comprato su amazon grazie a mamma che li ha comprate abbiamo comprato un pacco di penne non cancelline perché non sappiamo se utilizzeranno le penne cancellino le penne non cancelline nella bico un pacco da 20 penne all'interno ci sono otto penne blu sei penne nere quattro penne rosse due penne verdi le penne arancione le compreremo poi abbiamo il kit govi del sacchettino con tutto la corrente per il covi perché essendo ancora periodo di cavi dall'interno abbiamo un pacco di salviettine imbevute disinfettanti una disinfettante per le mani e le mascherine poi ancora ci devo mettere i fazzoletti per il naso e infine il mitico zaino della seven acquistata in prima elementare se s n j quindi seven acquistata in prima elementare e ancora intatto poi vabbè ci sono anche libri fa vedere libri poi ci abbiamo il sussidiario delle discipline che matematica scienze e laboratorio il sussidiario delle discipline di storia e geografia ed infine il libro di inglese e in più c'è un atlante per la geografia aspettato un attimino che questo anno abbiamo una novità gigantesca abbiamo le divisioni di mille quest'anno cambieranno anche la maestra di matematica perché abbiamo saputo che la sua andata in pensione vedremo chi sarà questa nuova maestra le moltiplicazioni addirittura mi pare che vi abbiamo fatto vedere tutto ora andiamo ad etichettare i colori tre nicolò sfoglia l'atlante vi faccio vedere cosa abbiamo ricevuto il film della terra adesso andremo ad etichettare le matite e i colori iniziamo con le donne oggi facciamo i dinosauri oggi faremo i dinosauri quest'anno faremo i dinosauri grazie a tutti 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 per oggi ci vediamo ci vediamo un nuovo video dimostreremo l'outfit del primo giorno di scuola sì ciao a tutti un bacio un abbraccio da mamma formiga io vi mando un grosso bacione che stiamo arrivando ai mille continuate ad iscrivervi che faremo lo speciale mille cos'altro dobbiamo dire dobbiamo dire di iscriversi attivare la campanellina mettere un like se volete lasciare un commento e quindi più iscritti avremo più baci vi daremo quindi io vi do in un solo bacetto più di 800 baci va a finire i compiti delle vacanze grazie Grazie a tutti.